Musica Vediamo nel sommario i titoli più importanti del nostro telegiornale. Annunciate in regione le misure a contrasto della pandemia, Civitanova apre un modulo del Covid-Ospital, raddoppiano i tamponi e i vaccini anti-influenzali, si potenzia anche il personale sanitario con militari e medici in pensione. Il presidente Acquaroli in riunione con i prefetti delle Marche, al vaglio della Giunta, restrizioni su circolazione e attività per scongiurare un nuovo lockdown. Ruba 7.000 euro dalla cassa dell'autogrill indagato al dipendente dell'area di servizio Metauro Ovest. E valdono il fisco per 2 milioni di euro nei guai tre persone per esercizio abusivo della professione medica. Si chiama Saturno ed è il nuovo singolo del sedicenne Mattia Baldelli che sogna di diventare una pop star. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, apriamo con l'aumento di contagi e con il decesso che si è verificato nelle marche legato al coronavirus. La vittima è un anziano di 71 anni con patologie pregresse. L'uomo, residente a Loreto, è morto al Torrette di Ancona. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 226 nuovi contagi su oltre 1.400 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. 53 in provincia di Macerata, 36 in quella di Ancona, altrettanti nel Fermano, 26 in provincia di Pesero Urbino, 67 nell'Ascolano e 8 fuori regione. Questi casi comprendono per lo più contatti stretti di casi positivi e contatti in ambito domestico, oltre a rientri dall'estero e ad altri rilevati negli ambiti sanitari e scolastici. Balzo in avanti anche per il numero di ricoverati, che passano da 118 a 134. Rimangono 19 invece i pazienti in terapia intensiva, mentre aumentano da 4 a 8 quelli in semi-intensiva. Infine supera quota 7.000 al dato relativo alle persone in isolamento domiciliare. E visto l'aumento di ricoveri e di contagi, la Regione Marche ha adottato nuove misure per prevenire e contrastare l'epidemia. Tra le azioni messe in campo, un aumento di tamponi, di personale sanitario, di USCA e di posti letto in terapia intensiva. Aprirà anche un modulo del Covid Hospital. Non sono qui per fare l'eroe, il nostro impegno deve portare a salvare le vite. Sono le parole del neossessore alla sanità, Filippo Salta Martini, che questa mattina a Palazzo Raffaello a Dancona ha incontrato i giornalisti per annunciare le nuove misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Durante la conferenza che Fano TV ha trasmesso in diretta sui social e sul canale 17 del digitale terrestre, Salta Martini ha comunicato che entro venerdì verrà aperto un modulo da 14 posti in terapia semi-intensiva del Covid Hospital di Civita Nova Marche. L'assessore ha sottolineato l'insufficienza dei reparti intensivi e una paurosa carenza di personale, fattori che hanno portato Acquaroli a chiedere al Ministero, medici e infermieri della sanità militare, in particolare della Marina, perché possano contribuire ai servizi della struttura ideata da Guido Bertolaso. Abbiamo bisogno di un nuovo personale medico per non sguardire i servizi necessari alla sanità ordinaria degli ospedali, alla cura delle malattie oncologiche, per esempio, piuttosto che alla chirurgia. L'assessore, che ha reperito i dati attuali, ha fatto un bilancio dei posti letto, che ad oggi sono complessivamente 129 nelle terapie intensive, sui 220 totali, considerando i 115 presenti in epoca pre-Covid e i 105 posti autorizzati dal DPCM, di cui ne sono stati attivati soltanto 14. Si tratta dell'8,3% rispetto alla popolazione marchigiana, che porta la nostra regione ad essere al terz'ultimo posto nella classifica italiana. Da attivare restano 41 posti a Marche Nord, 10 dei quali saranno pronti dal 1 novembre, mentre gli altri 31 entro la fine dell'anno, poi 38 a Torrette, 7 a Iesi, 5 a San Benedetto del Tronto, Saltamartini poi ha annunciato le novità per i tamponi. Abbiamo raddoppiato la dotazione dei tamponi, il problema è che la regione, con il suo personale, ne processa solamente 2.200, la domanda è molto più alta, quindi abbiamo chiesto ai farmacisti e ai medici di famiglia di operare in questo senso, nei prossimi giorni ci vedremo e con il loro aiuto concluderemo anche questo accordo, allargando la platea dei tamponi e anche ai bambini che devono rientrare a scuola e a tutte le categorie a rischio, compreso il personale sanitario e delle forze di polizia. Anche i vaccini anti-influenzali verranno raddoppiati, passeranno dagli attuali 440.000 a 860.000. L'assessore poi ha dato disposizione di convocare le associazioni rappresentative dei medici di famiglia per stringere un accordo. Noi abbiamo bisogno che il sistema della prevenzione funzioni al meglio per evitare l'ospedalizzazione e quindi l'aggravamento nei reparti e soprattutto abbiamo raddoppiato il numero delle unità che arrivano a casa. Abbiamo dato disposizione direttiva di comprare altri strumenti per fare la radiologia a casa, la radiologia toracica. I malati quindi non si dovranno recare in ospedale ma attendere le usca che verranno potenziate con più mezzi e personale. Inoltre è stata data la direttiva di convocare i sindacati per concludere un accordo e liquidare l'indennità di rischio che spetta ai sanitari. Trovo ingiusto, ha detto l'assessore, che chi rischia la vita contro un nemico pericoloso e mortale non abbia ancora ricevuto questo riconoscimento. Abbiamo chiesto anche alle cooperative dei medici in pensione di attivarsi, di concorrere ad aiutare la sanità marchigiana oltre ai medici militari e poi abbiamo chiesto, abbiamo dato alla direttiva, al servizio sanità di impiegare anche i medici specializzanti ma anche i neolaureati che chiaramente devono essere però addestrati in queste strutture. Un appello infine è stato rivolto ai marchigiani perché dai dati emerge che la maggior parte dei contagi avviene in casa tra parenti e nei rapporti con amici e fidanzati, spesso asintomatici. Un invito dunque ad utilizzare mascherine, gel e distanze per tutelare in particolare le categorie più fragili, comenziani e disabili. Abbiamo l'impegno tutti di salvare anche una sola vita e quindi anche i soggetti all'informazione hanno un compito fondamentale e importante, non solo quello di informare ma anche quello di formare l'opinione pubblica, formare le corrette prassi dei cittadini. Insieme davvero penso che ce la possiamo fare. E questa mattina si sono tenute anche diverse riunioni sull'emergenza sanitaria. La prima è in videoconferenza tra la Giunta, il Presidente Acquaroli e i prefetti delle Marche. Si è parlato dell'andamento dei contagi e della necessità di affrontare la nuova fase in un'ottica di prevenzione per evitare un ulteriore lockdown e scongiurare il più possibile i danni economici. E' stato stabilito che l'incontro congiunto avrà carattere settimanale. E la Giunta si è poi riunita per valutare l'adozione di misure di competenza del Presidente di limitazione della circolazione delle persone e delle attività consentite dal DPCM. In particolare è in corso l'acquisizione di informazioni necessarie sia sui trasporti scolastici sia sulle attività che possono concorrere alla trasmissione del virus. E ancora a cronaca, un dipendente dell'area di servizio Metauro Ovest è stato denunciato dalla Polizia Stradale per aver rubato 7.000 euro dalla cassaforte di un autogrill. Aveva rubato 7.000 euro dalla cassaforte della cassa continua, il cinquantenne di origini abruzzesi dipendente dell'area di servizio dell'autostrada A14 Metauro Ovest sotto il comune di Mondolfo. E' stata la direttrice dell'autogrill ad accorgersi che dai versamenti fatti ed inseriti nella cassa mancavano delle buste di denaro contenente gli incassi del locale riferiti al mese di ottobre. Dopo la prima denuncia contro i gnoti, sporta inizialmente dalla dirigente, sono scattati sia da parte della direzione del gerente commerciale che dall'istituto di vigilanza privata i controlli straordinari e senza preavviso all'interno dell'attività. Dopo aver constatato che la somma di denaro mancante era piuttosto elevata, la direttrice ha quindi proceduto con il chiamare la polizia del reparto autostradale di Fano. I sospetti sono subito ricaduti sul dipendente cinquantenne, risultato l'unico in possesso delle chiavi della cassaforte. L'uomo, dopo aver negato inizialmente di essere colpevole, una volta messo alle strette dagli investigatori della polizia stradale, ha indicato il nascondiglio delle buste contenenti i 7.000 euro rinvenuti che si trovavano in un attiguo magazzino di stoccaggio sotto un ripiano e ben nascoste da numerosi contenitori ed involucri, ma pare che da un conteggio fatto dalla direzione mancherebbero in totale 8.000 euro. Il ladro è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. Invece la Guardia di Finanza di Senigallia ha scoperto un'evasione di 2 milioni di euro in un centro ayurvedico. Tre le persone denunciate per esercizio abusivo della professione medica. Filippo Pucci. Nei bidoni della spazzatura c'era tutta la documentazione in nero pronta per essere distrutta. Ricevute fiscali, preventivi, schede dei pazienti, estratti conto e ricevute bancomat. Con l'operazione Non Solo Yoga, le fiamme gialle hanno scoperto un'evasione di oltre 2 milioni di euro ad opera di un agriturismo e di un centro ayurvedico di Senigallia, costituito come associazione senza scopo di lucro e riconducibili a due imprenditori cingalesi. L'indagine è stata avviata dai finanzieri del Comando Provinciale di Ancona grazie ad un attento monitoraggio e agli esposti di alcuni clienti che lamentavano il pagamento di somme di denaro per la partecipazione a vari corsi, senza rilascio delle certificazioni fiscali. Dagli accertamenti della Polizia Tributaria sono state individuate 750 posizioni riferite a clienti che si sono sottoposti a consulti e partecipato ad attività tenute dal maestro. Elementi che hanno fatto emergere cospicui guadagni che per 5 anni gli indagati avrebbero omesso di comunicare al fisco. Inoltre, il personale del servizio ispettivo dell'Asur Area Vasta 2 ha notato che all'interno dello shop del centro ayurvedico c'erano farine, olio e succhi di frutta scaduti da tempo. Sono stati rinvenuti anche preparativi ayurvedici e bevande depurative di vario genere senza alcune indicazioni degli ingredienti. I prodotti sono stati subito sequestrati così come i locali destinati alla loro produzione e conservazione. Ma non solo, perché dai computer degli indagati è stato scoperto che all'interno dell'associazione venivano eseguite senza alcuna autorizzazione e laurea specialistica alcune attività mediche che potevano essere rischiose per la salute in presenza di importanti patologie nel soggetto fruitore. In totale, al termine delle indagini, sono state denunciate tre persone. Due per esercizio abusivo della professione medica ed evasione fiscale, reati puniti rispettivamente con la reclusione fino a 3 e 5 anni, e la terza persona invece è stata denunciata per concorso nel reato di esercizio abusivo della professione medica. La Guardia di Finanza continuerà ad operare assicurando un presidio di sicurezza e di legalità in questo particolare momento di emergenza economico-sanitaria. Dai buoni pasto alla testera sanitaria utilizzata come Bancomat nei comuni dell'ambito sociale 6 è partito il nuovo progetto solidale per aiutare le famiglie in difficoltà. Si chiama Passamano Rete Solidale dell'evoluzione del precedente progetto non spreco pensato per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Dal mese di novembre i meno abbienti non riceveranno più i buoni pasto ma avranno una testera sanitaria utilizzata come Bancomat. È ancora da stabilire la cifra che verrà caricata da spendere nei negozi convenzionati per l'acquisto di genere alimentari o prodotti di prima necessità. Ma si tratta di una tantum calcolata anche in base al numero di componenti del nucleo familiare. L'iniziativa riguarda i nove comuni dell'ambito sociale 6 di cui Fano è capofila e vede coinvolti anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, le cooperative Gerico e i talenti e l'associazione Domomia. Gli interventi sono aggiuntivi, sono quello dell'acquisto degli stock di beni alimentari direttamente all'ingrosso, soprattutto beni alimentari a più lunga conservazione e poi la modalità dei buoni spesa che riprende un po' quello che si era fatto anche durante il lockdown per andare incontro alle famiglie, ai nuclei familiari più indigenti, più in difficoltà economica ma con una modalità innovativa che è quella dell'utilizzo della tessera sanitaria. L'accredito spiegatinti avverrà direttamente sulla tessera sanitaria delle famiglie seguite dai servizi sociali dell'ambito. Fano si è già dotata di questo strumento ma nei prossimi giorni si farà in modo che anche gli altri comuni lo possano utilizzare. Il progetto, che dura tre anni, è stato presentato al Codma di Rosciano. Verranno previsti dei presidi direttamente sui territori. Ogni comune, con una periodicità, con una frequenza di ogni 15 giorni, vedrà direttamente sul posto, grazie anche alla collaborazione che potrà nascere con delle associazioni di volontariato del posto, la consegna dei materiali e quindi dei beni di prima necessità o dei beni appunto per la spesa alimentare. E ci sono buone notizie per la galleria piccola di epoca romana situata lungo la via Flaminia in zona Furlo perché dopo tanti anni verrà messa in sicurezza e potrà tornare fruibile a fini turistici e didattici. L'obiettivo è stato raggiunto grazie a una convenzione tra Enel Produzione, proprietaria dell'impianto idroelettrico, provincia di Pesero Orbino, che è l'ente gestore della riserva naturale statale, e comune di Fermignano, territorio su cui ricade la galleria lunga 8 metri e larga 3 metri e 30. Cambiamo argomento, è dedicato all'amore tra adolescenti, il brano Saturno, il nuovo singolo di Mattia Baldelli, cantautore sedicenne di Tavernelle di Colli al Metauro. Tutti particolari nel servizio di Letizia Marchionni. Una storia d'amore vista dagli occhi sognanti di un adolescente, quella raccontata sulle note della chitarra suonata da Mattia Baldelli, l'autore e cantante del suo nuovo singolo Saturno. Un pop che trassuda romanticismo e che si ispira alle sonorità del noto cantante inglese Ed Sheeran, idolo di Mattia. Da dove viene questo titolo così particolare? Questo titolo perché, appunto, anche nella canzone, c'è Perché mi fai girare la testa come Saturno, ovviamente è una canzone d'amore, e questa lei fa girare la testa proprio come Saturno. Ecco, questo ragazzo, insomma, che gli piace questa ragazza e cerca di scriverlo attraverso la musica, cerca, parla, insomma, di questa lei. Insomma, è come se gli scrivesse una poesia. Ecco, è una poesia riferita a questa ragazza. Tra un milione di stelle io sceglierei te E nella notte più bella della mia vita Con gli occhi al cielo penserò a te Hai realizzato da solo anche base video? Sì, le canzoni di solito le registro nel mio piccolo studio qua a casa, a parte l'ultima, Saturno, che ho registrato, insomma, in un studio di registrazione qua a Fano. E per il video di solito faccio tutto da solo, mentre per proprio Saturno mi ha aiutato un amico di mia zia, che saluto, Matteo Spallacci si chiama, e, insomma, mi ha aiutato lui per il video di Saturno. Come Saturno! Soli 16 anni ed un grande sogno, quello di fare strada nel mondo della musica, che Mattia coltiva da quando era bambino e da quando, con sua madre, ha iniziato a suonare le prime note con la sua chitarra, che da allora non lo abbandona mai. Ho iniziato a scrivere canzoni a sei anni, quindi sei, sette anni, prima e seconda elementare, e, insomma, ho iniziato anche a suonare la chitarra. Mi ha aiutato anche un po' mamma in casa, che già sapeva fare lei, e quindi ho suonato la mia prima chitarra classica e scrivevo, ecco, le canzoni così. Progetti per il futuro? Ci sarebbe tanto. Più che suonare, far arrivare i miei brani e la mia musica a più persone possibili. Ci stiamo provando, stiamo provando anche qualche talent così, ma per ora, ecco, non c'è niente di ufficiale. La musica per me, sì, è la passione, e il senso per cui mi sveglio la mattina, ecco. Perché sei bella come il sole al luglio Quando cade in mezzo gli occhi non zirà la testa come Saturno. E sarebbe dovuto iniziare sabato prossimo il trentunesimo campionato di calcio 8 del CSI, ma alla luce del nuovo DPCM, l'ente di promozione sportiva con sede a Fano è stata costretta alla sua temporanea sospensione. Stessa sorte toccherà al volley e calcio a 5, i cui fischi d'inizio erano previsti a breve. Dopo la pubblicazione del decreto, il Comitato Nazionale, subito scritto al Governo e agli associati, manifestando tutto il proprio disappunto I dubbi di Bosio e Pagnetti, rispettivamente Presidente Nazionale e della provincia pesarese, si riferiscono al Via Libera, che hanno avuto alcuni locali, come ad esempio le sale bingo. Quando leggiamo che si può frequentare una sala bingo, appunto, precisano i due, ma non un campo di calcio, iniziamo ad avere qualche preoccupazione che alla fine, ad essere dimenticati, siano i più fragili, i giovani sportivi e le giovani atlete, i dirigenti di base, ma anche gli allenatori appassionati. Come CSI cercheremo di provare tutte le strade affinché si trovi il modo di continuare a fare qualcosa, fossero anche solo forme di allenamento. E adesso il grande album di Fano TV. Questa sera facciamo gli auguri a Pina Andreoli e Giovanni Mencucci, di Tombaccia di Fano, che festeggiano 64 anni di matrimonio. Auguri dai familiari e da tutto lo staff di Fano TV. E vi ricordo il numero dedicato alle vostre segnalazioni, 338 49 68 250. L'informazione invece torna domani mattina con la nostra segna stampa. Buona serata a tutti voi, arrivederci. Grazie.